30 marzo. Davide fece come Dio gli aveva comandato. 1 Cronache 14-16. Fare. A Davide non bastava sapere quello che Dio desiderava dalla sua vita. Egli era pronto e disponibile a fare ciò che gli era stato comandato. Per questo motivo egli realizzava continuamente l'opera di Dio. È importante considerare che Davide, quale re, impartiva degli ordini ai suoi sudditi, quali li seguivano prontamente. Non basta sapere ciò che Dio chiede, occorre essere altrettanto pronti a eseguire i suoi ordini. Molti si fermano al sapere, ma non arrivano mai al fare. Le buone intenzioni e i lodevoli propositi non bastano per realizzare i beni divini. Caro amico, se il tuo desiderio è che Dio operi nella tua vita e ti faccia del bene, devi essere disponibile a fare ciò che Lui ti chiede attraverso la sua parola, la Bibbia. Soltanto facendo la sua volontà, la tua vita sarà benedetta e potrai realizzare i tanti beni spirituali che Dio elargisce per grazia a chi è pronto ad ubbidire incondicinatamente a ciò che Lui comanda.